qui facciamo un pezzo che che rappresenta un po quello che siamo perché non siamo una parte di corner in bloom altri ragazzi abitano in germania o sparsi altrove uno di loro ha scritto questo pezzo anche questo l'abbiamo già inciso circa un anno fa si chiama paragrafo grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti